Sanremo è un grande spettacolo e come tale ogni anno deve riservare qualche sorpresa. Nella puntata di oggi parliamo di una di queste sorprese, ossia i tre palchi. Non solo l'Ariston, infatti, anche quest'anno il Festival di Amadeus si estende al mare della Liguria e approda sulla nave da crociera ancorata a largo della città. Durante le cinque serate però alcuni ospiti si esiberanno sulla Costa Smeralda, dove farà da padrone di nuovo il rap. Il conduttore, infatti, a suo quinto anno consecutivo ha scelto quattro ospiti che fanno certamente divertire gli amanti della Kermess musicale. Per la prima e ultima serata Amadeus, infatti, ha puntato sul rapper Tedua che arriva a Sanremo forte del successo del suo ultimo album, La Divina Commedia, certificato quattro volte disco di platino e anche del suo tour. Sempre per la quota rap, per così dire, giovedì tocca a Bresch, che ha recentemente collaborato con i Pinguini Tattici Nucleari nel brano Nightmares. Entrambi genovesi, tra l'altro uno classe 1994 e l'altro 1996. Amadeus poi non ha guardato soltanto alla scena rap. Mercoledì è la volta del grande artista e produttore Bob Sinclair e venerdì, invece, il grande ritorno di Gigi D'Agostino, aveva svelato qualche settimana fa. Il DJ e produttore Bob Sinclair ha promesso di scaldare l'atmosfera, così come Gigi D'Agostino, che torna ad esibirsi dopo l'annuncio della malattia che lo ha costretto a ritiro momentaneo due anni fa. Per il direttore artistico della Kermess è particolarmente importante l'idea che il suo Festival di Sanremo si estenda al di là del Teatro Ariston per permettere a tutti di godere della Kermess. Come sapete, aveva infatti spiegato, nei miei festival ci sono tre palchi tutti importanti, l'Ariston dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città, uno in Piazza Colombo e l'altro sulla nave da crociera per cinque serate impertibili. I quattro artisti annunciati da Amadeus per le esibizioni sulla Costa Smeralda non sono naturalmente in gara. I big si sfidano per vincere la settantaquattresima edizione e sono già stati annunciati a dicembre, così come i titoli delle canzoni. Sul palco comunque Amadeus non è solo ad affiancarlo. C'è Marco Mengoni, vincitore lo scorso anno con due vite, poi mercoledì è la volta della veterana del festival e vincitrice del 1995 Georgia, giovedì poi la comica di cinema e tv Teresa Mannino e venerdì la showgirl Lorella Coccarini. Per la finale il conduttore ha voluto invece il ritorno all'Ariston di Fiorello, ospite della seconda serata, ancora il compositore Giovanni Allevi, mentre sabato è la volta dell'etuale Roberto Bolle per un incontro di danza classica nel tempo del pop, così è stato spiegato. E allora chiudiamo per ora questo spazio con la musica, quella di Bob Sinclair a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza con Love Generation dal 2005. Apparteneva all'album Bob Sinclair in the House, animò quell'estate e ancora oggi rappresenta un piccolo capolavoro nel suo genere. Grazie per la visione!